Ai piedi del crocifisso di Bohaia, che il 2 maggio 2002 assistette e patì il massacro di decine di persone rifugiate nella sua chiesa, sono stati deposti i dolori di decenni di conflitto armato, violenze inaudite che hanno lasciato ferite e che faticano a rimarginarsi, ma anche il desiderio sincero di fare il primo passo per costruire un futuro di pace. L'incontro per la riconciliazione nazionale a Bilabisienzio ha permesso a Papa Francesco di toccare con mano le piaghe delle vittime, madri, padri, figli e di ribadire con forza che ogni violenza commessa contro un essere umano è una ferita nella carne dell'umanità. Ogni morte violenta ci diminuisce come persone. E anche se le ferite del cuore sono più profonde e difficili da sanare di quelle del corpo, il Pontefice ha invitato tutti ad avere fiducia, abbandonandosi all'amore di Gesù, che pur mutilato ci insegna a trasformare il dolore in fonte di vita e in resurrezione, ci ricorda che l'odio non ha l'ultima parola. È l'ora di spegnere gli odi, ha insistito, di rinunciare alle vendette e aprirsi alla convivenza basata sulla giustizia, sulla verità e sulla creazione di un'autentica cultura dell'incontro fraterno. Al termine dell'appuntamento, prima di tornare a Bocotà, Papa Bergoglio ha fatto una sosta presso la Croce della Riconciliazione di Vilabisienzio, dove è impresso il numero delle vittime del conflitto, per pregare e per piantare un albero, simbolo di nuova vita.